Italienische Adria, nichts liegt näher. Avremo una campagna molto aggressiva, in maniera positiva e di marketing buono a favore della costa, della riviera che coinvolge le nostre tre regioni. Uno spot di 20 secondi che passerà sul più famoso sito di previsioni meteo tedesco e nel network di canali tv privati della Germania. Penso che questo sia solo l'inizio di un percorso che poi crescerà sempre di più, penso alle fiere, penso alle manifestazioni internazionali. Abbiamo dimostrato che sappiamo fare squadra, che tra le tre regioni non c'è conflitto, spiega il presidente Zaia, sulla stessa linea il governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini, dei confini geografici e politici, dice, non ci interessa niente. Il fatto qui di venire è trovare tutti i servizi garantiti e in piena sicurezza per i cittadini. Il messaggio che vogliamo dare è che qui si può venire senza avere alcun timore di contagio. Il messaggio da far passare è che qui non si viene solo per fare delle belle vacanze, ma per fare vacanze sicure, aggiunge il presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga, che coglie l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa a proposito dei corridoi turistici. Quei paesi che sponsorizzavano i territori turistici con la Germania, escludendo i nostri territori, oggi sono paesi che stanno vivendo la crisi pandemica in modo estremamente più preoccupante rispetto ai nostri territori. Chi oggi viene in Friuli Venezia Giulia, in Veneto e in Emilia Romagna, è assolutamente più sicuro rispetto a chi ipotizzava i corridoi turistici. L'accordo tra le tre regioni ha una durata triennale. La volontà però di Zaia, Bonaccini e Fedriga è di rinnovarlo guardando anche ad altri nuovi mercati, perché la riviera adriatica, dice il presidente del Veneto, diventi la nostra costa del sol. Magari se un giorno si arriverà anche a pensare a un format comunicativo che sia unico, anche con un marchio unico, non ci vedo nulla di dannoso. Magari se unico, non ci vedo nulla di dannoso.